il Padre perché il Signore Gesù Cristo nel Vangelo II Giovanni capitolo 10, versetto 30 il Signore Gesù Cristo è uno, è la stessa cosa con il Padre quindi quando siamo in Signore Gesù Cristo nel Calossesi capitolo 3, versetto 3 siamo in Signore Gesù Cristo il Signore Gesù Cristo attraverso Giovanni capitolo 10, versetto 30 è in Dio Padre anche il Santo Spirito abita dentro di noi in Prima Corenza capitolo 3, versetto 16 Luca 12, 12 funziona bene la Trinità esiste grazie Gesù sono molto contento perché questa è ginnastica spirituale grazie a tutti grazie a tutti